Il 2023 si prospetta più in salita del 2022 per l'agricoltura cremonese. Molti agricoltori l'anno scorso hanno pareggiato i conti o addirittura hanno dovuto intaccare risparmi a fronte di ingenti perdite nei raccolti dovute alla siccità. Quest'anno ci troviamo di fronte a un problema che è addirittura peggiore rispetto a quello dell'anno scorso perché rispetto alla stessa data del 2022 gli invasi alpini hanno una riserva disponibile decisamente inferiore. Le aziende come si stanno muovendo per far fronte a questo problema? Allora laddove è possibile vengono fatte scelte culturali orientate su coltivazioni meno idroesigenti. Purtroppo però sappiamo che il territorio cremonese è un territorio ad alta vocazione zootecnica e quindi la necessità poi per le aziende è avere le unità foraggere sufficienti. Quindi ci si può orientare un po' di più magari su coltivazioni di medicai in sostituzione magari di altre colture ma poi fondamentalmente il mais deve essere coltivato. A vessare coltivatori sono anche gli alti costi di produzione. Stiamo andando incontro anche ad un problema di elevati costi di produzione. Sappiamo che negli ultimi due anni i costi energetici e di conseguenza anche i costi di tutte le materie prime destinate appunto all'agricoltura hanno subito delle impennate importanti. Oggi stiamo assistendo a una graduale diminuzione ma siamo ancora oltre il 150% del valore rispetto a un anno e mezzo fa.